Dopo aver detto addio alla Roma, ma non al calcio giocato, Daniele De Rossi è chiamato a decidere il suo futuro. Le iniziali ipotesi di vederlo all'estero in Argentina, chiamato da Burdisso o negli Stati Uniti, hanno via via perso consistenza e ora l'intenzione dell'ex capitano giallorosso sembra quella di rimanere un altro anno in Serie A. Si sono fatti i nomi di Fiorentina, Milan e Inter come società a lui interessate, ma la più accreditata potrebbe rivelarsi il Bologna. A favorire l'unione l'arrivo nella società rosso-blu di Walter Sabatini, verso il quale De Rossi ha sempre nutrito grande stima. Potrebbe garantire una buona plusvalenza da 15 milioni Luca Pellegrini, terzino sinistro della Roma, a rientro dai sei mesi in prestito al Cagliari. Con questi fondi la società giallorossa potrebbe quindi perfezionare il risanamento finanziario entro il 30 giugno. Autentico prodotto del vivaio, Pellegrini, nella sua esperienza con il club sardo, ha mostrato grandi doti tecniche, tanto da essere associato in passato a club come Juventus e Paris Saint-Germain e conquistarsi un posto nelle nazionali Under-20 e Under-21. Attualmente sul giocatore sarebbero diversi gli interessamenti da parte sia di squadre italiane che straniere e qualora dovesse arrivare una valida proposta aggiungerebbe liquidità preziosa alla Roma, evitandole ulteriori problemi dal UEFA. L'apprezzamento di Leonardo per Sergei Milinkovic-Savic non è diminuito in un anno. La scorsa estate da dirigente rosso-nero aveva fatto un timido tentativo per portare il serbo al Milan, ma la trattativa non decollò, vista le alte richieste di Lotito. Ora che il brasiliano è tornato a essere il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, la musica potrebbe essere diversa. L'offerta del PSG, che ancora non dovrebbe essere stata recapitata a Formello, sarebbe di 75 milioni di euro, ma Leonardo può anche sfruttare i buoni rapporti con Kezman, agente di Milinkovic. La Fiorentina, tramite il proprio direttore sportivo Pradè, sta lavorando ad alcuni colpi per il centrocampo. Tra questi c'è anche il nome di Lucas Sabiglia del Milan. L'argentino, con passaporto italiano, è legato ai colori rossoneri fino al 2020, ma l'idea di diventare il fulcro del rilancio viola potrebbe trasformarsi in una spinta in più. Monitorato anche un altro elemento di esperienza, Andrea Bertolacci, finito in scadenza con il Milan. Tra i giovani non tramonta l'attenzione per il capitano dell'Italia Under 21, Rolando Mandragora, mediano di 21 anni, che la scorsa estate è passato all'Udinese con un diritto di controriscatto da parte della Juventus per 26 milioni. I bianconeri, che hanno già incassato 20 milioni, salvo dietro fronti improvvisi, non lo riporteranno a Torino, ma i friulani non faranno sconti.